Ciao ragazze, allora benvenuta in questo nuovo video, video un pochino diverso dal solito, oggi vi parlo un po' della mia esperienza e percorso lavorativo fino ad oggi. Allora, come molti di voi sanno, io prima lavoravo in ufficio 12 ore al giorno, circa, e da quando ho deciso di lasciare il mio posto di lavoro in ufficio, insomma la mia attività, ho deciso appunto di intraprendere quella di venditrice o comunque di beauty promoter di alcuni tipi di prodotti che potevano essere di diverse aziende, ne ho fatte tante, fino a fermarmi e focalizzarmi su un'azienda che non solo mi piace come etica, come prodotti, come qualità, ma anche mi dà tantissime soddisfazioni lavorative. Allora, molti di voi sanno che io sono consigliera di bellezza Yves Rocher, tant'è che ho fatto anche già qualche video sfacchettamento, ma quello che è cambiato è che io adesso sono capogruppo per la Yves Rocher Italia. Cosa cambia sostanzialmente tra le due cose, tendenzialmente cambia solamente il fatto che io possa inserire nel mondo della Yves Rocher altre persone che desiderano farlo e che appunto queste persone entreranno a far parte del mio gruppo di lavoro che io quotidianamente curo, gestisco, sono di supporto, quindi insomma lavoriamo veramente come una grande squadra. Allora, due parole sull'azienda per chi non la conoscesse, anche per fare un attimo di chiarezza su un concetto che sta girando online, anche da alcune youtuber molto famose appunto sul web, che hanno dato un'informazione errata, per cui si è creata un attimo un'idea sbagliata di Yves Rocher. Allora, la Yves Rocher non è un'azienda di prodotti biologici, è un'azienda appunto francese di cosmetica e prodotti per la cura del corpo, su base vegetale. Cosa significa? Loro hanno delle coltivazioni e studiano i principi attivi delle piante dal quale prendono appunto il loro sistema di rigenerazione e i principi attivi delle piante stesse e le utilizzano sui prodotti che producono. Quindi sono prodotti su base vegetale, all'interno ci sono dei grossi componenti e grandi quantità di componente vegetale e poi c'è una minima parte di prodotto chimico. Per farvi un esempio, i solari, i solari hanno bisogno comunque del fattore di protezione che deve essere necessariamente chimico, per essere appunto un fattore di protezione 50, deve tendenzialmente avere un componente chimico all'interno. Ci tengo a dire che all'interno di più di 800 prodotti dell'Yves Rocher ci sono comunque delle linee biologiche, quindi da coltivazione biologica, mentre tutti gli altri prodotti sono stati proprio ultimamente riformulati e sono state lanciate sul mercato delle linee cosmetiche e appunto Yves Rocher completamente nuove e innovative che contengono al loro interno una percentuale di circa 97-98% di vegetale, quindi naturali e una piccolissima percentuale di componente chimico che appunto serve per la texture del prodotto, per il finish del prodotto. La Yves Rocher è molto attenta anche all'ambiente sotto il punto di vista proprio materiale, allora ad esempio su alcune linee di prodotti ogni prodotto acquistato è un albero piantato, inoltre ci sono dei, hanno cambiato molto i packaging dei prodotti e molti arrivano senza scatolo esterno per evitare lo spreco della carta, ma altri ad esempio come questo qui, ce l'ho davanti perché ve lo faccio vedere dopo, sono dei tubi ecotubo, quindi plastica riciclabile, riciclata e riciclabile e quindi insomma è attenta veramente a 360 gradi all'ambiente e alla cura di noi donne e insomma che tra virgolette abbiamo fatto grande la Yves Rocher perché adesso è veramente un'azienda grandissima in tutto il mondo, l'Italia in particolare è veramente ai posti molto molto alti per insomma dei prodotti venduti della Yves Rocher perché è veramente molto molto apprezzata, tra l'altro il rapporto qualità prezzo è indiscutibile, sono fantastici i prodotti, soprattutto le linee viso di cui poi vi parlerò che sono da poco state lanciate sul mercato e altre riformulate sono veramente eccezionali. Allora arriviamo al sodo, allora a parte che farò dei video per spiegarvi i prodotti, alcuni dei prodotti per chi sono studiati, da chi possono essere utilizzati, da cosa sono, c'è gli ingredienti al loro interno quindi i principi attivi, insomma le informazioni generali su quel prodotto però adesso mi volevo focalizzare proprio in virtù del fatto che comunque essendo capogruppo io posso inserire nel mio mondo e nel nostro grande mondo ognuna di voi quindi qualora qualcuna di voi voglia delle informazioni più dettagliate sull'azienda, sul prodotto, sul tipo di attività su come si gestisce questo tipo di lavoro, io sono a disposizione, mi trovate, sapete sia mi potete scrivere qui nei commenti oppure mandarmi un'email oppure vi sarà nella mia pagina comunque vi metto tutto nell'info box. Giusto un'idea generale per chi voglia provare questa cosa, allora per chi è questo lavoro? Per tutte. Allora tutte le mamme, tutte le studentesse, tutte le donne già insomma affermate a livello lavorativo per te che magari stai cercando un lavoretto oppure sei in attesa di trovare il tuo lavoro ideale questo potrebbe essere una valida opportunità di lavoro perché non solo è facile da gestire perché la gestisci secondo i tuoi tempi, allora io ti dico che ho una bimba di 3 anni e io riesco a gestire lavoro come beauty promoter, quindi le mie vendite personali, riesco a gestire il lavoro da capogruppo, riesco a gestire famiglia, appunto figlia, marito, tutto insomma, le amicizie veramente riesco a fare tutto perché è un lavoro che mi permette di farlo, perché decido io quando lavorare, come lavorare, decido io cosa fare insomma. Non ho obblighi verso l'azienda, non si hanno obblighi, puoi inviare un ordine come puoi non inviarlo puoi saltare un album promozionale, puoi decidere di inviare 3, 4, 5 ordini con un album puoi decidere di non lavorare più con questa azienda, puoi decidere tutto, cioè sei libera di fare ciò che vuoi questo è il bello di Live Rocher, non hai vincoli, non hai obblighi. Tra l'altro una cosa che mi piace tantissimo è che non ci sono investimenti per iniziare questa attività allora come funziona e come si inizia? Si inizia come cliente privilegiata, allora o già sei una persona che utilizza i prodotti, li ama e desidera acquistarli a un prezzo scontato rispetto già allo sconto che trovi sull'album, allora lì si attiva il codice come cliente privilegiata e si ottiene il 15% di sconto oppure decidi, siccome ti piacciono i prodotti, siccome ti piace il mondo della cosmetica vuoi provare e fai un primo ordine di 35€ dal quale, che però può essere anche un ordine già delle persone che conosci oppure appunto tuo puoi veramente fare ciò che vuoi un ordine di 35€ dal quale viene già applicato lo sconto del 15%, i prodotti arrivano comodamente a casa per il primo ordine non ci sono spese di spedizione e all'interno del pacco con i prodotti si trova un bollettino postale che appunto puoi pagare alla posta o al tabaccaio già scontato del 15% e che puoi pagare entro circa 10 giorni dalla data di fatturazione, questo significa che tu puoi prendere i prodotti che hai ordinato, li puoi consegnare a chi te li ha ordinati prendi i soldini delle persone che hanno ordinato e vai a pagare il bollettino tutto quello che ti resta è già il tuo guadagno immediato cosa accade quando diventi cliente privilegiata? allora, uno appunto inizia ad avere lo sconto del 15% questo sconto può arrivare se decidi di lavorare e comunque appunto prendere ordini con l'album promozionale l'album promozionale, lo sconto può arrivare fino al 28% e puoi arrivare anche al 32% in base insomma ai fatturati cosa significa diventare consigliera di bellezza? consigliera di bellezza appunto ti dà la possibilità di avere il 28% di provvigione netto io parlo sempre di percentuali nette e a casa ti arriva un borsone con i prodotti più venduti dell'Ivoroche e tantissimi campioncini, insomma la borsa campionario in omaggio per chi desidera magari provare e mi stai guardando e ti interessa e avresti piacere di entrare nel mio gruppo di lavoro io regalo il materiale per iniziare cosa significa? mi contatti, mi chiedi informazioni, mi dai insomma i tuoi dati io ti spedisco ovviamente gratis il materiale per iniziare che comprende album promozionale campioncini, tanti campioncini da far provare alle tue amiche o da provare tu stessa e un libricino che si chiama Tra di noi questo libricino è riservato solo appunto alle consulenti quindi a coloro che attivano il codice anche come cliente privilegiata all'interno ci sono, vengono riportati un po' di informazioni sulle vendite alcuni prodotti che puoi acquistare a un prezzo un po' speciale per te che sei appunto cliente o consigliere di bellezza e ci sono una serie di elenchi di regali che l'azienda ti è felice insomma di farti quindi non solo guadagni in termini economici ma anche tanti regali da parte dell'azienda l'azienda ci tiene sempre tanto a coccolarci con prodotti nuovi incentivi, regali, insomma veramente tante cose che l'azienda fa per rendere sempre più piacevole questo mondo già fantastico di suo io lo so che vi sembra che ne stia parlando magari per alcuni di voi sembra esagerato quello che dico ma vi assicuro che è veramente bellissimo io mi ritengo molto 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 fortunata del lavoro che faccio e della scelta che ho fatto in passato cioè quindi di abbandonare quello che era per me una fonte di stress e dedicarmi a mia figlia prevalentemente e sono molto molto felice di aver trovato appunto questa azienda che mi permette di poter non tralasciare le amicizie non creare problemi in famiglia perché per me la cosa più importante è la mia famiglia e avere la possibilità di fare un lavoro che mi piace perché poi comunque parliamo di cosmetica fare un lavoro che mi piace consigliare alle persone che conosco i prodotti che secondo me sono veramente ottimi e fare sparmiare anche dei soldini perché ci sono dei prodotti di farmacia che sono meno validi di questi ma che costano molto di più e sono sempre felice appunto di poter consigliare alle persone che conosco e che voglio bene questi prodotti ma soprattutto appunto di avere tempo di stare con la mia famiglia quindi se ti va ti assicuro che è facilissimo quando ti arriva il materiale che io poi ti spedisco a casa hai il tempo di raccogliere il tuo primo ordine i 35 euro e da lì inizia insomma questo percorso che è fatto di tante tante soddisfazioni e tanti regalini e anche soldini quindi niente io ti volevo far vedere giusto questo cestino che in realtà non l'ho fatto per il video ma perché devo fare dei regali ad alcune persone che lavorano con me quindi questo qua è un esempio di quello che possono essere i prodotti profumi, integratori alimentari veramente tante tante cose molte di voi sanno che ci sono anche negozi la differenza sostanziale tra i due è che nei negozi ci sono offerte differenti dall'album e ci sono dei prodotti meno rispetto a quelli che si trovano sull'album promozionale quindi vabbè se poi volete delle informazioni in più io vi dico solo questo se qualcuno di voi già conosce l'azienda conosce già qualcuna che magari il capogruppo vi può inserire fatelo perché non perdete niente non ci rimettete niente se invece siete curiose non conoscete nessuno e vi farebbe piacere di entrare nel mio gruppo di lavoro io ne sarei felicissima e onorata quindi se volete informazioni più dettagliate sapete come contattarmi io sono a disposizione niente ragazzi spero che questo video vi possa avvicinare sempre di più al mondo di live rocher e spero che tanti di voi decidano di entrare nel mio team e iniziare a lavorare insieme quotidianamente in serenità secondo i vostri tempi e senza mai essere pressati da un titolare niente ragazzi io vi mando un bacio che qualsiasi cosa sono a disposizione ciao ciao Grazie a tutti.